Allora, questa lezione è dedicata a un altro protagonista della pittura surrealista, vale a dire René Magritte. Magritte è un pittore belga che si trasferisce a Parigi dopo essere entrato in contatto con Breton e il movimento surrealista. La sua è una pittura giocata sui paradossi, sull'accostamento di oggetti dal significato apparentemente incoerente, ma il suo modo di dipingere dal punto di vista tecnico è accademico e potremmo dire perfetto, cioè sfiora, come dire, sembrano quasi fotografie le sue opere. Nei suoi dipinti, infatti, tutto è fedele alla realtà. Eppure la visione, l'accostamento quindi di oggetti diventa qualcosa di ambiguo e genera un senso di inquietudine e soprattutto il suo linguaggio pittorico ci consente di riflettere. Si forma l'Accademia di Belle Arti di Bruxelles e rimane profondamente colpito da un'opera di De Chirico. Allora, De Chirico non l'abbiamo visto, lo faremo con la successiva lezione, ma è quest'opera di De Chirico a suscitare in lui un grande interesse. Perché? Perché vede accostati oggetti che apparentemente non sembrano avere alcuna relazione tra di loro, quindi una testa che ricorda la testa dell'Apollo del Belvedere, un guanto di gomma e una sfera, appoggiate su un piano ed inserite all'interno di uno spazio, come dire, non ben definito. Ecco, secondo lui l'associazione di questi oggetti genera un qualcosa di assolutamente misterioso e magico e crea anche una sorta di spaisamento che è proprio prodotto dall'accostamento di oggetti così diversi tra di loro. E la ricerca dell'artista, proprio da questo momento, giocherà sul non senso delle cose, quindi in parte recupererà anche la tradizione dadaista, ma soprattutto gioca sulla visione e sul linguaggio, quindi sulla creazione di situazioni inattese, impossibili, e quindi non lavora sul sogno, sull'inconscio, come avevano fatto gli altri surrealisti, ma la sua dimensione è quella della veglia, a lui interessa questo aspetto, quindi non si concentra sull'inconscio, ma cerca di sollecitare lo spettatore attraverso la rappresentazione di oggetti comuni proposti secondo delle associazioni di idee o attraverso dei rimandi paradossali e ambigui. E lo fa con quest'opera, Se si ne fa un pip, il cui titolo è anche Il tradimento delle immagini, del 1928, Un olio su tela, l'opera di piccole dimensioni, è un dipinto che raffigura una pipa e una scritta che nega la rappresentazione. La scritta è un corsivo molto scolastico e recita questa non è una pipa. Quindi, Magritte che cosa vuole fare con quest'opera? Vuole farci riflettere sulla differenza che c'è tra l'oggetto reale e la rappresentazione di un oggetto reale. Si tratta di due cose apparentemente simili, ma che simili non sono. Perché? Perché se noi volessimo utilizzare davvero questa pipa, che è rappresentata in modo assolutamente fedele alla realtà, non potremmo utilizzarla, perché ci renderemo conto che non è una pipa vera. Però, alla domanda che cosa si tratta, tutti, penso che risponderemo, in qualsiasi parte del mondo ci trovassimo, a definire questo oggetto come una pipa. E quindi gioca sulla convenzione che lega la riconoscibilità di un oggetto al suo nome. E fa riferimento, il motivo della scritta, all'alfabetiere, nella quale i bambini, agli inizi del loro percorso scolastico, imparano ad associare la lettera al nome. Quindi ricalca un po' questo tipo di operazione. Ma il messaggio che il dipinto vuole trasmettere è un messaggio di tipo filosofico e invita proprio ad una riflessione. Quindi il scopo dell'opera d'arte non è più l'opera d'arte di per sé, ma una riflessione stessa sull'arte. Tant'è che Magritte verrà poi ripreso dagli artisti concettuali negli anni 70. E' un pittore molto filosofico, come vi dicevo, cioè ci pone sempre nella condizione di dover riflettere, pensare. E quindi vuole lavorare su un nuovo tipo di rappresentazione. Lo farà anche, ad esempio, con quest'opera. Questa è una delle più diffuse in questi giorni di epidemia e pandemia. L'idea di nuovo degli amanti. Gli amanti si toccano, si baciano, hanno un contatto, ma questo contatto viene loro negato dalla presenza di questi due lenzuoli bianchi che ne celano la fisionomia. O ancora, con quest'opera dal titolo La condizione umana, si vede una finestra aperta su un paesaggio. Ci si accorge che al di là però della finestra troviamo, e qui ce lo descrive molto bene, il margine di una tela appoggiata su un cavalletto. E ciò che viene rappresentato sulla tela è in realtà una continuità con il paesaggio visto dalla finestra. Quindi questo che cosa genera? Genera una sorta di quadro nel quadro, che si sovrappone al paesaggio dipinto con precisione, anche qui, fotografica. E quindi nuovamente ci pone nella condizione di dover riflettere tra ciò che è reale e tra ciò che è rappresentazione del reale. Ma qui si confondono, e quindi diventa difficile capire che cosa è vero e che cosa non lo è. Certo è che se decidessimo di grattare via ciò che viene rappresentato sulla tela, ci renderemo conto che questo paesaggio, che sembra così reale, in realtà è una rappresentazione. Quindi in fondo la sua pittura diventa quasi... genera poesia, nel senso che desta stupore, ci pone, come dire, dei quesiti, degli interrogatori, dei problemi. Lo fa addirittura in questo modo, quando decide, ad esempio, di accostare anche qui oggetti storpiando nelle proporzioni e le dimensioni, inserendole in questo caso in una stanza, quindi un ambiente di per sé chiuso, ma le cui pareti diventano la rappresentazione di un cielo. Una sorta di saponetta estremamente gigante, così come di un pettine ingigantito e posizionato su un letto, così come un fiammifero, dalle dimensioni assolutamente sproporzionate. Quindi l'idea del paradosso è data anche dall'accostamento di oggetti in modo del tutto incongruo, che vengono ingranditi e rimpiccioliti rispetto alle loro dimensioni reali. E quindi questo innesca un nuovo meccanismo di pensiero che ci pone, come dire, di fronte ad una riflessione, ad uno straniamento, così come in quest'altra opera, i cui elementi principali sono il cielo, un cielo sereno, degli edifici sullo sfondo e degli identici uomini che vengono presentati completamente sospesi da terra come se fosse pioggia caduta dal cielo. Si tratta di figure completamente spersonalizzate, anonime, vestite con i tipici abiti della borghesia, replicati all'infinito. Quindi, quale potrebbe essere il significato di quest'opera? L'idea che il singolo, la moltitudine, cioè il singolo perde la propria unicità, diventa un, come dire, un modulo ripetibile all'infinito e quindi l'idea dell'omologazione, dell'incomunicabilità, dell'isolamento come tipici problemi che affronta l'uomo nel Novecento. Ma lo inserisce tutto in questa dimensione molto magica, onirica e silenziosa o addirittura arriva a fare anche operazioni di questo genere. Nuovamente il contrasto, la contrapposizione tra un paesaggio notturno rappresentato nella porzione inferiore del dipinto, anche qui l'immagine, un'immagine estremamente precisa dal punto di vista tecnico, fotografico, in contrapposizione invece a un cielo rappresentato in pieno giorno e solcato da nubi. Quindi questo tipo di revocazione, cioè l'accostamento tra due elementi opposti, paradossali, genera in lui una forza, un potere che ha la capacità di stupirci e incantarci e che lui chiama poesia. Quindi opere di questo genere creano stupore, disorientamento, così come ancora in questa, l'opera che chiama la camera d'ascolto, in cui dilata le proporzioni di una mela verde che inserisce all'interno di una stanza e che conferisce all'opera un carattere estremamente claustrofobico. Oppure, nuovamente, con quest'opera, ne trovate poi una simile sul vostro libro di testo, inserisce sopra un paesaggio una grande nube leggera che viene affiancata invece proprio per suo contrasto ad una sorta di grande pietra o meteorite che non si sa bene come sta sospeso nel cielo. Quale momento della giornata viene rappresentato? Anche qui un momento strano di passaggio quando le prime luci dell'alba e del giorno lasciano lo spazio al protrarsi della giornata e fanno sì che la luna possa lasciare quindi il campo al giorno. Quindi, di nuovo, un accostamento di oggetti molto strano, molto particolare, che genera quindi una nuova forma d'arte. Ricordatevi sempre le parole di Breton, l'arte surrealista è bello come l'incontro casuale di una macchina da cucire e di un ombrello su un tavolo operatorio. Quindi due realtà, due oggetti inconciliabili che vengono uniti grazie alla capacità immaginativa e creativa dell'artista. Lo fa ancora con quest'opera. Quest'opera risale a pochi anni prima della morte. Si tratta di quattro uccelli verdi che sono rappresentati in questo ambiente semidesertico dai colori molto accesi e particolari. Torna su un tema che è quello della metamorfosi e dell'ibridazione. Infatti vediamo la fusione di due entità reali, gli uccelli e le foglie, e in questo modo però le foglie si trasformano in esseri animali e gli uccelli sembrano partecipare alla vita vegetale. Però la particolarità è che sono ancorati a terra e quindi sono privati della loro capacità di poter volare. E poi questa, che è una delle immagini più celebri di Magritte, il famoso uomo che riprende quell'opera vista prima e vi applica e vi inserisce la stessa mela vista nella camera d'ascolto. Con la prossima lezione vedremo invece da lì. Alla prossima!